La qualità dell'aria nelle città calabresi sulla base dei dati disponibili non presenta criticità importanti. Per il 2022 i capologhi calabresi rispetto ai limiti di legge sia per le polveri sottili, parliamo di PM10 e PM2.5, che per il biossido di azoto e NO2. E quanto emerge dal report di lega ambiente, mal aria in città, cambio di passo, cercasi ovviamente tutto ciò non è per la nostra regione. Tuttavia è scritto in una nota alcuni valori come PM2.5 a Cosenza e PM10 e NO2 a Crotone risultano superiori ai nuovi obiettivi europei del 2030, così come l'NO2 in tutte le città ed in particolare in diverse città che risultano superiori a quanto stabilito dall'OMS. Per la Calabria in particolare i parametri di PM2.5 molto pericolose per la salute umana vedono tra le città virtuose Vibbo, Reggio, Cadanzaro e Crotone, che si trovano al di sotto del limite stabilito per il 2030. Cadanzaro e Crotone si trovano anche in linea con i limiti raccomandati dall'OMS. Per quanto riguarda invece l'NO2 emerge che tutte le città calabresi sono sopra i limiti dell'OMS, anche se per poche città italiane non si avvicinano in positivo al limite. Ci sono Cadanzaro, Reggio e Vibbo, mentre Crotone risulta sopra i limiti. Occorre sottolineare che si tratta di dati parziali perché aggiornati fino a giugno del 2022 per indisponibilità degli ulteriori dati ufficiali non presenti sul sito Arpacal. Il report di Lega Ambiente, afferma Anna Parretta, presidente regionale di Lega Ambiente Calabria, ci consegna dati tendenzialmente positivi grazie ad un complesso di fattori tra cui le caratteristiche naturali dei territori e la carenza storica di un tessuto industriale inquinante. Tuttavia costituisce un segnale allarmante, soprattutto a fronte dei dati sul biossido d'azoto che dipende dal traffico veicolare. La circostanza è che i dati ufficiali si fermino a giugno del 2022 quando dovrebbero esserne garantita la fruibilità e rese trasparenti le notizie sull'effettivo funzionamento delle centraline di monitoraggio. Appare evidente come tutti i soggetti coinvolti a partire dalla regione debbono attivarsi per risolvere questa problematica.